Io guardavo le prime file ed effettivamente erano tipo così, no? E mi ricordo, cioè, non so se me lo sto sognando, ma mi ricordo tipo 3-4 persone, una famiglia, tipo tutti vestiti di bianco Non so, le gambe incrociate, che erano scioccate Quindi ci fai caso anche tu a queste cose B-S-M-T Passa dal basement Basement Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo Passa dal basement Ci siamo, questo vuol dire nuova chiacchierata Ciao, io sono Gianluca Gazzoli Se ancora non lo avete fatto, iscrivetevi a questo canale Se ci state guardando su YouTube, se ci state ascoltando su Spotify Grandi, continuate a farlo anche lì Insomma, quello che fate, il fatto che siamo sempre di più, è una cosa molto bella Che permette che succedano cose sempre più belle Quindi grazie, grazie mille Come dire, tra i vari ospiti, tra i vari amici che passano a trovarci Ce ne sono alcuni che magari, insomma, è già capitato di incontrarci in altri contesti Ci sono quei momenti in cui dici Magari stai per iniziare una chiacchierata Ma non sempre riesci perché magari non c'è il contesto, c'è casino, c'è situazione E alcune cose, secondo me, è giusto Alcune conversazioni, è giusto farle al basement Allora io sono davvero contento che dal basement sia passato Massimo Pericolo Ciao Gianluca No, perché tu sei andato in freestyle, nel senso che non hai messo la cuffia E quindi tu non senti, in realtà io ho registrato un sacco di persone che battevano le mani Ah, bellissimo Quindi tu immaginate Tutta gente morta Sai che nelle televisioni si dice che chi Certo, ormai non c'è più È tutta gente che non Sono ancora gli applausi Esatto No, grazie mille, scherzi a parte davvero per essere qui È un piacere mio, veramente Infatti l'altra volta ci siamo visti Sì, sì, sì E non siamo riusciti Questa è la nostra prima conversazione È vero Infatti io ho questa roba che ogni tanto poi sembra uno psicopatico Che se so che c'è insomma la voglia poi di fare una chiacchierata qui Preferisco che non ci diciamo niente prima Ci sa che quando sono entrato infatti sono passati quei 20 minuti in cui non abbiamo interagito No, no, abbiamo interagito Però non ti ho detto guarda non ti chiedo niente di altro Perché qualsiasi cosa insomma mi piace che poi avvenga in modo spontaneo qui Poi nel tuo caso ci sono delle cose che ti vorrei chiedere da diverso tempo Nel senso che è tanto tempo che Sì ma che seguo, che vedo un po' anche tutto quello che fai Intanto come stai? La prima è abbastanza Sto bene Perché è un momento un po' particolare Sono convinto che tanti si aspettino un'altra risposta ormai no? Conoscendovi Sì Però devo dire che sto bene Tu dici gli altri si aspettano un'altra risposta perché da te uno si aspetta che sia sempre un po' incazzato Sì ma più che incazzato anche sofferente Ok Perché è il mio inizio Insomma il mio racconto Ma nell'ultimo anno infatti se parleremo del disco poi scapirà anche il titolo insomma il concept che c'è dietro Ho cercato proprio di stare bene e ci sto riuscendo Quindi questo è No che poi in realtà chiacchierando con te veramente si possono aprire un miliardo di porte e di mondi La prima adesso è anche stata così abbastanza inconsciamente che è proprio quella Cioè il fatto che magari se una persona parte e ha una popolarità così forte subito anche per uno storytelling Un immaginario personale, reale, legato poi alla sofferenza Ti si incolla Ti si incolla Cioè è difficile forse far capire al tuo pubblico che cazzo io però vorrei anche essere felice ogni tanto Esatto Proprio sta cosa l'ho fatta per stare bene quindi diventa un controsenso Perché poi gli altri si aspettano lacrime Le tue ferite sempre aperte però cazzo Io insomma le ho usate per arrivare a qualcosa di più bello Mi sembra legittimo Come lo vivi adesso l'inizio, cioè un nuovo album Cioè nel senso l'uscita di qualcosa di nuovo dopo che hai già passato un paio belli importanti Benissimo perché comunque è la prima volta che vado in pari con il racconto che faccio e l'età che ho E mentre prima non perché scrivessi delle cose appunto non attuali ma perché i pezzi erano stati scritti prima Io praticamente i primi due dischi li ho fatti Il primo ma anche il secondo quasi con materiale che avevo scritto in precedenza E quando sono usciti quei dischi, quando ho avuto il successo io non avevo più le forze neanche di scrivere e di raccontare E ho provato un po' nel secondo disco a raccontare la mia nuova vita ma comunque sono dei momenti nel disco Cioè non è molto in focus a livello di racconto poi secondo me è comunque un disco scritto bene Questo è stato scritto da zero per essere il nuovo massimo pericolo invece Cioè qua si sono un po' si sono allineati i pianeti Sì finalmente La tua timeline è arrivata a quella effettivamente della tua... Quello era un prequel diciamo Stavo così aspettando prima che gli altri sapessero tutto quello che c'era da sapere così adesso almeno... Le basi ci sono Beh questo è importante ed è una cosa che non vedevi l'ora Cioè nel senso... anche perché nell'ultimo... come sono stati gli ultimi... quando è uscito l'ultimo album? Ormai sono passati un paio d'anni? Più di due anni Più di due anni E in questo frangente che cosa? Che è tantissimo E infatti quello no? Soprattutto per la tua generazione in particolare dove esce roba... È sorprendente che io sia qua Cioè perché magari non mi cagava più nessuno Invece i pezzi rimangono e anche se passa il tempo Invecchiano bene No però tu fai parte del... nel senso nel tuo caso secondo me questa cosa succede Anche perché quello che racconti è vero no? Tu sei una persona... un artista che racconta delle cose vere e le scrive Parlo tanto di me E quella roba secondo me la gente arriva ed è anche disposta in qualche modo ad aspettare Per avere una cosa poi vera e autentica quando poi esce no? Penso di sì Penso che ovviamente dipenda un po' dalla percezione che gli altri hanno di te Che ovviamente tu gli hai dato con il racconto che fai So che la gente apprezza questa onestà E quindi probabilmente questi sono i motivi Chiaro E in questi due anni che cosa? In questi più di due anni in realtà che cosa hai fatto? Allora è successo questo Ho proprio toccato il punto più basso a livello proprio emotivo, mentale Della mia vita perché dire della carriera In quattro anni ho avuto successo Poi c'è stato quel momento lì Ma proprio mi sono... Sai quando si dice che devi voler star bene no? Perché davvero mi sono dovuto stancare di stare male Ho dovuto proprio vedere che non potevo guadagnarci più niente dallo stare male Perché tante volte magari invece Sai quando sei abituato a stare in un certo modo Ti sembra quasi... Siccome diventa un po' un'abitudine È quasi la tua... È la tua quotidianità Quindi ti sembra di difendere quel poco che hai Però è diventato talmente poco che non avevo più niente da tenermi Quindi avevo tutto da guadagnare a cambiare atteggiamento Cambiare vita Quindi è stata prima di tutto una scelta personale Sì, sì Questo mi ha portato poi a scrivere il disco ovviamente Però scrivere il disco è stata proprio una conseguenza di cambiamenti che ho fatto E avevo tantissima anche paura di aver avuto quel successo Aver fatto due dischi con cose scritte in precedenza come ti ho detto E di non riuscire più a tirar fuori niente E di non avere più niente Invece come tutte le paure di solito quando l'affronti scopri che era finta E adesso in qualche modo è il momento anche di mostrare poi tutto quello che... In questo periodo c'erano insomma le persone che ti seguono, che ti ascoltano, che ti schiavano Ma cosa stai facendo? Quando è che esce della roba nuova? Non lo so Ecco, una delle mie nuove abitudini in realtà è stata non guardare più niente sui social Quindi io non li ho visti Davvero? Quei messaggi che sicuramente mi sono arrivati Chiaro, mi è capitato quella volta ogni tanto ma sono stato lontanissimo dai soliti Sì, perché comunque appunto c'è un continuo sapere cosa pensano gli altri Sapere, un continuo sapere, cioè quella cosa alimentata non fa bene, no? Bisogna fare, penso che più che capire, sapere è tutto un circolo vizioso Quella roba lì è... cioè mi sono accorto anch'io tante volte che a volte dei malesseri anche piccoli o quotidiani arrivano proprio quando tu guardi cosa succede, cosa fanno gli altri e troverai sempre qualcuno che sta facendo qualcosa in più di te o meglio che fa finta di fare qualcosa Perché poi la maggior parte delle volte non è così e quindi di conseguenza ti porta a vivere male probabilmente quello che è la tua giornata Sì, ma poi è tutto decontestualizzato dalla vita, no? Cioè lì vedi quel momento di quella persona, è ovvio che si fa la foto bella Nel momento più figo, certo E quindi cos'è? A un certo punto c'è stato un momento in cui hai detto basta e adesso non voglio più utilizzare Sì, piano piano ovviamente ho iniziato a togliere tutto quello che mi sembrava sbagliato per me e mettere energia, mettere disciplina in quello che... Invece era giusto, no? Partire dallo sport, dal riposo Ma infatti tra l'altro adesso ero contento anche di farti vedere un po' il basement, le cose che ci sono dentro Tu hai visto subito quelle un po' legate allo sport, lo sport per te è sempre stata una cosa particolarmente importante, no? Sì, poi ovvio stiamo parlando di determinati sport, per esempio non ho mai giocato a calcio, sport di squadra Non è il mio mondo ecco, però vengo comunque dalla disciplina sportiva perché di quello parliamo ma delle arti marziali Quello stai continuando a farlo sempre? Sì, adesso sto facendo pugilato e palestra perché ho anche cambiato fisicamente tanto negli ultimi anni Però quello fa proprio parte di me, cioè non riuscirei a stare senza Cioè nella tua settimana ad esempio quando è che ti alleni? Lunedì e martedì, vabbè faccio, di solito poi cambio scheda ogni tanto però classico, lunedì petto, martedì gambe Mercoledì faccio pugilato, giovedì riposo, venerdì faccio schiena e magari sabato riprendo gambe o faccio qualcos'altro Domenica riposo E questo ti aiuta anche a mantenere, cioè questa è una roba che cascasse il mondo tu devi mantenere? Sì, sempre E dove lo fai questo? Io sono fatto la palestra in casa quindi vabbè proprio per qui devo vivere Per stare più tranquillo, ma per essere sicuro anche di farlo perché poi... Sì esatto, non ho il tempo del viaggio, non ho il tempo delle foto Ti togli quello sbatti Dicevo praticamente quasi da subito quando poi si è iniziato a parlare di Massimo Pericolo è sempre stato Insomma anche da tutti i tuoi colleghi si è sempre citato come quello che sa scrivere Cioè come quello che scrive delle cose insomma di un certo tipo Sì, che mi ha scritto, sei che abbiamo fatto il pezzo nella relax Infatti quando gli ho mandato mi fa comunque scrivi delle figate Cioè il commento è parte della sincerità che l'ho apprezzo tanto da lui ma è sempre vero quello che hai detto Sì E questo oggi credo che sia un valore... Cioè credi che questa cosa faccia la differenza in chi fa il tuo genere? Sicuramente fa la differenza per me, nel senso che io questo ho da dare Però sì, devo essere sincero, penso che faccia la differenza per chi ama questa musica Almeno io che sono cresciuto anche in quegli anni Non ti so dire per i più piccoli però la scrittura è tutto, non è quello che ti comunica, sono le parole Se no cos'hai? E questo poi ti ha portato anche quasi da subito ad avere comunque il rispetto anche dei più grandi in qualche modo della scena Adesso ad esempio nell'album nuovo non abbiamo ancora detto il titolo, si può dire? Eh penso proprio sì Anche perché quando uscirà credo che sia... Lo dico io Vai 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 Le cose cambiano E già questo fa capire tutto quello che poi hai detto prima quando hai messo in chiaro Già ci sono tutta una serie anche di altri artisti con cui collabori Quanto è stato più facile adesso rispetto a prima, non so, fare un feat con qualcuno? Insomma, hai visto che anche nell'approcciarti a un album è diverso rispetto al primo? Sì, sicuramente è un casino fare un disco Ecco, ho scoperto quanto era difficile facendolo tutto di testa mia, facendolo davvero Però mi ha permesso di imparare bene per il prossimo E mi ha permesso di fare quello che volevo Insomma, negli altri dischi, se guardi ho fatto pochi featuring, no? Perché comunque essendo un lavoro sempre fatto in team, con più test E io come ti ripeto, in quegli anni ero veramente stanco, veramente provato Quindi non mi andava di... Non di dire la mia, nel senso che lasciavo spazio, magari cose che non mi andavano bene Ma non mi interessava, non avevo le forze di dire facciamo questo Invece adesso l'ho fatto, quindi ho contattato le persone Insomma, con tanti un rapporto già da prima Con altri invece è iniziato con questo disco il rapporto Faticoso ma bellissimo Sono soddisfatto di tutto, anche dei featuring, dei beat Anche perché, allora io ho questo ricordo legato a te, tu non ti ricorderai Però che mi aveva fatto... Che era anche un po' rappresentativo del momento in cui poi tu hai avuto anche la tua popolarità E quanto è stato poi anche impattante, no? In quello che stavamo vivendo Ricordo che io stavo presentando un evento all'Arena di Verona Ed era quel periodo... Mi ricordo che forse proprio tu avevi detto quella frase nel backstage Tipo, cazzo, non sono mai stato all'Arena di Verona In un weekend ci sono stato cinque volte Una cosa di questo genere Perché era quel periodo in cui era tratto subito post-Covid Cioè, divertente Sì Ancora mi diverto No, però quella situazione era particolarmente bella E c'era chiaramente questa cosa dove sul palco si parlava in un certo modo Con certi toni sicuramente un po' più leggeri Non so come dire Più da famiglia, mettiamola così E a un certo punto c'è Massimo Pericolo Sei salito su Boom, 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 boom Sì, infatti alcuni erano strani Io guardavo le prime file ed effettivamente erano tipo così, no? E mi ricordo, cioè, non so se me lo sto sognando Mi ricordo tipo tre o quattro persone, una famiglia Tipo tutti vestiti di bianco Sì Non so, le gambe incrociate Che erano scioccate Quindi ci fai caso anche tu a queste cose Sì, 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 ma soprattutto lì perché poi era... Cioè, anche le luci, no? Sì Vedevi tutto Quando vedi tutto è... Inizia a vedere Imbarazzante a volte No, però lì, nel senso, perché poi quando a un certo punto diventi molto popolare Iniziano a chiamarti anche negli altri contesti che non sono prettamente i tuoi, no? E come ti approcci tu a quel tipo di situazione? Ma, cioè, penso di sapermi comportare un po' in tutte le situazioni Che grazie a Dio comunque, cioè, nella mia vita ho vissuto un po' di tutto, no? Quindi mi riesco a integrare di solito Ovviamente ci sono cose che mi piacciono di più, di meno Sicuramente quello non è proprio il mio ambiente Però mi sono divertito anche lì, quindi... Però quindi occhio che se siete nelle prime file Vi vede, vi vede, no? Perché poi tutto il contesto che dicevi tu Che c'erano anche tutte le luci Tutta una situazione No, poi c'era, ecco, se devo cantare la canzone Cioè, non c'entra niente sapere se comportare il testo Quella, c'è poco da... Mi sa che forse avevi fatto proprio 7 miliardi Una cosa del genere Ho fatto anche quella E quindi che era bella potente già dall'inizio, no? Adesso, in qualche modo Appunto, quando dici massimo pericolo Si capisce di che cosa stiamo parlando Di quale può essere Stesso, secondo te, anche la nuova musica Che stai portando spiazzerà, secondo te? Spiazzare... Cioè, non è il mio obiettivo Quindi non so se spiazzerò le persone Sicuramente voglio colpire chi mi ascolta Come ho sempre cercato di fare E non credo, ecco, che la gente si aspetti Scusami Non credo che la gente si aspetti questo disco Perché... Ma anche solo perché ci ho lavorato davvero a modo mio E solo a modo mio Che non è quello che ho fatto per i primi due dischi, invece E... Perché? Cos'è cambiato? Perché adesso l'hai fatto e prima no? Ma che ho davvero scelto io da zero Tutto, ho scritto io da zero Cioè, ne so, i pezzi li ho sempre scritti io Però li ho scritti da zero per questo disco E non è stato un raccogliere cose Farli... Farli andare... Incastrare Esatto Gli altri dischi sono stati più un lavoro così E... Sono felice di quei dischi Certo Ma... Il modo in cui ho lavorato a questo è diverso Cioè, molto diverso Più... Completo Da parte mia Ok Quindi... Anche da un certo punto di vista credo che... Cioè, è ovvio che cambia il risultato Sì, sì Quindi poi la gente penso che... Ecco, sarà... Ma cos'è cambiato attorno a te, secondo te, nella musica, eh? Dal tuo... Dall'ultima volta a questo disco Cioè, è un ragionamento che fai? Secondo me principalmente la quantità Ok Cioè, ma come in tutto, no? L'iperstimolazione, cazzo... Per me esce troppa musica Per godersela, per... E sono forse anche, vabbè, più grande Quindi magari sono un po'... Sono meno ricettivo Mi stanco più in fretta Anche il ragazzino si stanca nel senso che vuole cose nuove Ma mi stanco nel senso che non voglio più niente, capito? Cioè, mi sono veramente... Quasi rotto le palle di ascoltare la musica Perché ne esce veramente troppo E questo è cambiato proprio Il modo in cui la musica ti arriva Cioè, è quasi invadente Ok, cioè, sono... Ma comunque, sai, c'era la radio Però andavi nel negozio e compravi il CD O c'era il CD masterizzato Cioè, quelle erano le cose E Mule ti scaricavi Adesso comunque Accendi questo C'è tutto In 20 secondi hai sentito tipo l'inizio di tre canzoni Che ti appaiono così Sì E questo, boh, forse comporta anche il fatto Più difficoltà nel... Nel fissare poi quella canzone O quel momento, no? Ovviamente, rimanere diventa magari più complesso E questo è stato un pensiero che hai fatto Nel momento in cui stavi pensando a nuova musica? Sì, ovviamente ci ho pensato Però non è che mi sono fatto influenzare dalla cosa Perché diventa più che altro un... Cioè, una speranza di non finire in mezzo a... Quindi di fare musica memorabile La scrittura che dicevi prima È quello che penso mi aiuterà Sempre in questo E quello è il tuo modo Una volta avevo sentito che dicevi A te piaceva il fatto proprio di riuscire a tradurre Quelle parole, quelli che sono I pensieri, no? Sì Che abbiamo magari noi che ascoltiamo O tu stesso C'è qualche... Qualcosa in particolare Di cui sei stato orgoglioso Di essere riuscito a tradurre A metterlo giù in parole? Beh, non lo so Perché a volte magari Ho delle barre preferite, no? Del disco Però ho quasi paura che Avendo un significato per me Poi sono banali, se le dico Per me la barra che ho fatto Ho abitato in centro solo quando ero dentro È una bomba Cioè, dice tutto Sulla mia infanzia Poi come ho vissuto sempre Spostandomi Però magari non vuol dire Un cazzo per un altro Perché... Vabbè, questa comunque Ha un suo impatto Già di suo Ce ne sono altre Che non so Tipo non si cambiano le cose Se non cambia atteggiamento Per me È il succo Del... Di questi due anni Per me E... Sono... Sono contento Di aver detto Quello che volevo dire io bene E... Ho forse pensato più a me Che al pubblico Perché gli altri per questo disco E a volte di solito È la soluzione Che pagherà Cioè, che pagherà Di più L'altra cosa che colpisce Secondo me sempre anche un po' Quando si hacker con te È che se uno pensa al tuo Al tuo percorso Alla tua vita, eccetera, eccetera Poi uno parla con te Tu mi sembri una persona Anche con una dialettica Ovviamente la scrittura tua Insomma Denota anche il fatto che Altre la capacità di pensiero Anche una Una capacità anche di Come dire Di dialettica, no? Di parlare Di raccontare delle cose Al di là Dell'essere più o meno Introversi o estroversi Ma Questa è una cosa Che hai sempre avuto? Cioè O c'è stato un momento In cui hai iniziato A Cioè Non lo so Da piccolo È difficile dirti come Però sì Mi ricordo che Alla fine Un commento Di Non so se posso dire Sta roba Perché le parole Magari sono brutte Vabbè Dillo Figurati Mia mamma da piccolo Diceva Questo deve fare All Mafioso L'avvocato Perché avevi Perché sapevi parlare bene Perché sapevi rispondere Ovviamente questa è una cosa Così Cioè Detta in modo leggero È una cosa che diceva mia madre Per scherzare Per strammatizzare Però quindi probabilmente Sì La comunicazione È importante per me Quindi penso Lo sia sempre stato Ma sei Insomma Non so Sei uno Che legge Ti piace leggere cose Ti piace Osservare Sì ma Ecco Ripreso a leggere Negli ultimi due anni Sempre di più Perché avevo Interrotto da anni Però Però da bambino Se Mi capitava un libro Che mi piaceva Anche perché Comunque Cioè mia madre Ho sempre letto Poi vabbè Robbe magari Contenuti Un po' Non so come dire Ma sei Tipo Angeli Cioè Quel mondo Un po' Poi ne ho parlato Anche nel mio libro Di storia Però ero Ero attratto Dalle cose scritte Ok E come è stato Scrivere tu Cioè al di là dei testi Cioè a un certo punto Hai scritto anche un libro Sì Sì ho scritto anche quello Ma Allora devo dire Che non è che mi sono messo lì Ho detto Scrivo il libro Il mio libro È stato un progetto Parallero Comunque ad altre cose Ci ho lavorato Ovviamente insieme A Marta Di Rizzoli Che ha lavorato Ad altri libri Di altri artisti Quindi ho corretto Più che altro Il linguaggio Magari Di determinate tematiche Che doveva essere coerente Quindi io parlando con lei Poi lei ha trascritto Ma alcune cose Le ho dovute Riscrivere Sì Ma penso che lo scriverei Veramente un libro Magari un giorno Certo E che ancora La tua storia La stai scrivendo Quindi Quello ci sta C'è anche quello Tanto La tua storia Che parte A me ha colpito Il fatto che tu Abbiate iniziato A scrivere A fare rime Ispirato da Hit Mile Questa è una roba Perché più o meno È successo Cioè quel film Eminem in particolare Insomma In quel periodo lì Ha veramente Cambiato Anche una generazione In tanti Avrebbero voluto Provare Fare Disfare Poi tu l'hai fatta Davvero questa cosa Sì Probabilmente Non so come dire Quando un fenomeno È più Più diffuso È facile Anche capirlo Per chi magari Non ha una sensibilità Particolare Io anche se la cosa Non esisteva In Italia Era solo un film Che veniva dall'America Ci sono voluti anni Prima di creare Una cultura Forse adesso Inizia ad essere Una cultura Con cui i bambini Crescono Però io Mi ha colpito Talmente forte Che si vede Che avendo Un'attenzione particolare I dettagli Le cose Pian piano Sono riuscito a capire Come farla Grazie anche Ai rapper Che sono venuti Ma di cose che avevi fatto Che direttamente Ti eri rimesso A rifare Tu Volevi rifare il film Volevo Cioè Sì Sì Era impossibile Però io sognavo Che magari Quello che aveva La telecamera Non so Che poteva prestarcela Ovviamente no C'erano Sai quelle 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 casse Sì Sì Chiaro E mi immaginavo Che con quella Avremmo potuto fare un film E tu ti eri messo A scrivere Delle rime Perché Sì Mi ero immaginato Le battle Di freestyle Rifatte Da noi Sì I protagonisti I bambini Quindi i primi testi Rap che ho scritto Erano In quell'occasione Ma ci sono da qualche parte Boh Se il tempo Non li ha Non so dove siano Qualcuno ce li ha Potrà metterli in vendita Cioè Chissà che rime erano Spero di no Roba Roba imbarazzanti Tra l'altro Tutto questo È È stata Insomma La prima parte Secondo te Nella tua vita Nella tua carriera Credo di sì Ma c'è Un pre Dopo All'esperienza Legata Al carcere Ma allora Più che altro È stato questo Che Prima rappavo Non esisteva neanche tanto Un immaginario street In Italia Quindi C'è il rapper A fare le rime Era più freestyle No Fare l'insulto E Dopo il carcere Cosa è successo A parte che c'è stato Comunque Contemporaneamente Sfera Che ha portato Comunque la trap E si inizia A parlare Più Più Di quello E Ma è come se Un certo punto È stato un mio amico A dirmi Guarda che Comunque con La tua vita Ti conosco So tutto Da quando eri piccolo La tua mamma Le cose Sei forte E se parlassi Del tuo vissuto Cioè potresti Potresti avere Veramente qualcosa Da raccontare Da far passare Ma io sinceramente Fino a quel momento Non ci avevo mai Riflettuto In questa Cioè anzi Mi sembrava strano Parlare di me Essendo cresciuto Anche Con fibra Che magari Era scioccante Parlando anche Di fatti di cronaca Che Cioè Non era una cosa In prima persona Non era qualcosa Che aveva vissuto Per me il rap Era più che altro Quella Quella forma lì E E Cazzo Questa cosa Che mi ha detto Sto mio amico qua Che mi ha fatto pensare Ok adesso Scrivo così Mi ha fatto scrivere pezzi Come Non per forza stritte Ma come bugie Per esempio Un pezzo Che parla davvero Di cose mie E poi tutto il resto Scialla sempre Quindi tutta quella È stata una fase Brebbia 2012 Non so Tutte Tutte le canzoni Che ho fatto Praticamente Queste sono state scritte Poi Poi successivamente Sì Quello è stato lo stimolo Che mi ha aperto gli occhi E ho detto Ok devo parlare Cioè posso parlare di me Quando ho iniziato a farlo Ho scritto belle canzoni Che prima invece erano E prima Cioè quelle pre Su cosa ti Ti basavi Qualcosina Magari citavo cose Della mia vita Però molto Molto vagamente Erano più punchline E basta Quindi sì C'è stato un primo Un dopo Non è stato soltanto Vabbè il carcero Ok però Casualmente Diciamo anche per coincidenza In quel momento Io ho sentito Sta frase Da un mio amico E ci ho riflettuto Ti ha Sì Beh sto amico Lo senti ancora Un tuo amico ancora È Carlo Fight Pausa Ah ok In cui ho fatto Il pezzo nel disco Cazzo ti ha aperto Un mondo Praticamente Io ero già Poi mega fan Appunto che quella È la cosa che ci ha legati Fin da subito Ma mi diceva Saresti come Kendrick Vabbè Parole sue Sì sì Mi piacerebbe essere No è che Molti Tante volte Oggi scrivono Di cose che non conoscono O parlano di esperienze Che non hanno vissuto Nel tuo caso Cioè la vita in qualche modo Ti ha fatto vivere Delle esperienze Particolarmente Forti E a quel punto Se le racconti E le hai vissute davvero È un po' diverso No Credi che questo sia Arrivato alla gente C'è passa l'emozione Forse anche Della cosa Cioè non so come altro dirlo Però Se da una Se da una cosa Ti passa l'emozione Ti arriva Se no Certo È intrattenimento No beh Credi che le persone Riconoscano questa cosa Oggi Cioè il pubblico Le persone Di diversa età Che magari ti ascoltano La sentono Quando una cosa è vera Sì Cioè comunque Tante volte Mi è stato detto Poi Il pubblico è grande Cioè magari Alcune persone Preferiscono altro Però va bene così Chiaramente L'esperienza So che Adesso anche con tutto Anzi A maggior ragione Raccontando anche un po' Il prima Uno capisce anche di più Perché magari adesso Invece c'è l'esigenza Di dire Raga Quello fa parte Di quello che Che ero Adesso C'è dell'altro Voglio fare anche Delle altre Cioè voglio fare sempre questo Ma in tanti altri In tanti altri modi Però tutto quello Che è successo prima È qualcosa che Comunque credo Che ti porterai dentro Poi Per sempre Giusto perché Magari non tutti Poi sanno La tua storia A prescindere Tu sei nato a Gallarate Nato a Gallarate Nato a Gallarate Poi Poi dall'ospedale Sono tornato a casa A casa Malgesto Ok Malgesto è un paese In provincia di Varese Che è attaccato a Brebbia È attaccato a Besozzo Cavirate La Vena Insomma i paesi Dove poi ho abitato Mi piace perché poi Questa cosa C'è un forte senso D'appartenenza Cioè la nomi di Spes Vivi ancora lì O ti sei trasferito No vivo ancora lì Vivi ancora lì Infatti Sì però mi ricordo Che tu volevi restare Sempre in quella In quella zona Cioè non volevi venire Nella città Ma guarda Lo sognavo da ragazzino Lo ammetto Di trasferire Sì perché comunque A 15 anni Ti pesa Il confronto Con quello che vedi In città E quello che trovi da te Però No Non era una roba Per tutto l'oro del mondo Neanche per tutto l'oro del mondo Interessante Vabbè Tu sei cresciuto lì E no anzi Scusami Sei nato lì In quella zona Però a un certo punto Poi sei andato a vivere Con tua mamma Catania Non vorrei dirmi A cavolata Io già abitavo Con lei E mio fratello Più grande Perché i tuoi erano Separati I miei Hanno divorziato Subito Subito Io sono nato Con mia madre Diciamo E poi da lì Noi ci siamo spostati Siamo andati a Sera Treviso Prima E mio fratello Aveva 14 anni Io ne avevo 7 Mio fratello quindi Ha voluto tornare indietro Cioè praticamente Si è messo d'accordo Con mio padre Mio padre teneva lui Quindi lui è tornato qua Quindi lui ha continuato A vivere con tuo padre Sì non ho più vissuto con me Abbiamo vissuto separati Lui da mio padre Io con mia mamma Due anni dopo Siamo andati a Sera Catania Dopo due anni ancora Tre Siamo tornati qua In un altro dei paesi Gavirate precisamente Ho fatto 5 anni lì Dentro una stanza Con mia madre Un monolocale E Ci siamo trasferiti All'Aveno Io da lì poi me ne sono andato Ho iniziato a vivere da solo Un po' di qua Un po' di là E quanti anni avevi in quel momento? 17 Non eri ancora maggiorendo Non ancora Infatti ci ho messo un po' Però poi ho iniziato a abitare da solo A pagarmi l'affitto Lavorare Poi vabbè Tutto quello che è successo dopo Fino al carcere Che altro dopo Ci metterei lavoro Depressione Successo Che arriva quando meno Te lo aspetti E a me ha impressionato Anche l'ordine cronologico Delle cose che ti sono successe Che è anche un po' Un po' strane In alcuni casi Cioè Anche il momento del carcere Se non ho capito male È arrivato in un momento In cui in realtà Tu già stavi un po' Cambiando vita Sì Perché Avevi quanti anni in quel caso? Avevo 21 anni In quel momento 21 Ok Ed era sempre il periodo In cui stavi In cui lavoravi In cui vivevi da solo O lo cercavi di arrangiarti Sì sì Io dai 17 fino ad oggi Non ho mai più abitato Con Con mia madre Nel senso Ho fatto qualche convivenza Con ragazze O con amici Però ti sei sempre cercato Di mantenere Tu Facendo Anche lavorando Non soltanto Ho fatto Lavori più Di merda Più diversi Di tutti i generi Però per me La cosa importante era Oggi mi pesa Magari Dire certe cose Fare certi commenti Perché Però ecco Io ai tempi Cioè poi Per stare in una stanza In due Nel senso Con mia madre Preferivo stare Da solo Poteva essere Cioè non era manco Più difficile Cioè era tanto difficile Stare In quella condizione Che stare da solo Quindi ho scelto La solitudine Ok Che è un tema Che poi ritorna spesso Poi nella Nella tua vita E io non ho capito Se questo isolamento Che hai vissuto Per determinati Momenti della tua vita E per determinati motivi È una cosa Che ti fa stare male O ti fa stare bene Cioè è una cosa Dove ogni tanto Ti butti tu Cioè in effetti Io magari tendo A isolarmi In certi momenti Però adesso Non è anche più di tanto Però è una cosa Di cui sento anche il bisogno A volte A seconda dei casi Però Boh Cioè quello era Un isolamento Anche sociale Perché poi Aveva a che fare Solo con persone Tra virgolette Come me Che avevano difficoltà Come le mie E Sai poi Da me Nel senso Nel paese C'è quello che sta bene C'è quello che sta male Non è magari come Non so Tipo c'è il quartiere Popolare Dove tutti Più o meno Sono Così Da me invece È un po' Tutto mischiato Non c'è Questa questione qua E quindi il confronto Cioè Almeno io ho sempre pensato Di viverlo ancora più intensamente Quindi facevi gruppo Con le persone Insomma Con la tua stessa storia Con la tua stessa Condizione E come ci sei finito È un isolamento Come ci sei finito In quel periodo A fare quello Che poi ti ha portato Al carcere Ma in modo Cioè Per cosa Per avere più soldi Da ragazzino Comunque C'è quello che lo fa Prima di te Guardi Guardi lui E lo fai E tu ti ricordi Penso chiaramente Di sì Il momento In cui È venuto Quel Te lo chiedo Proprio perché È un tema Che poi Non conosco Abitavo ancora Con mia madre Ok Mi pesava tanto La situazione Cioè Mia madre Aveva difficoltà Con il lavoro Spesso non l'aveva Comunque Sfido chiunque A fare l'adolescenza Chiusa in una stanza Con Con sua madre Poi il rapporto N'era anche dei migliori E Ed in quel momento Le pensi tutte Avendo anche Contatti Ravvicinati Con certe cose E Non dico che è ovvio Perché non mi vale Anche di dire Che poi uno è costretto Perché forse ad oggi Penso che una scelta Ce l'hai Soltanto che non lo sai E quindi è importante Anche farlo sapere Dare delle alternative Però in quel momento No Le prime cose Che pensi di fare Sono quelle che sappiamo tutti E quindi In quel periodo lì Però Io In quel periodo Tu stavi facendo anche altre cose Cioè ti eri preso bene Anche con lo sport E hai iniziato a fare E hai iniziato a fare Arti marziali Ero un bambino Ero un bambino Ma è stato Una figura È stato un esempio Una figura paterna Che Ha proprio Ha fatto sì Che quel mondo Diventasse Una cosa Che ti appassiona Un appiglio Cioè ti ha creato Tutta una sera Anche di amicizie Di Di persone Sì col tempo Sì Anche se poi Cambiando sempre Posti Case Palestre Però sono sempre Tornato su quello Sempre ricercato Per la palestra di karate Infatti poi anche Quando sono venuto a Gavirate Anche lì Ho voluto continuare Ho smesso per un periodo Ma Grazie a Altre informazioni Anche ricordi Perché è stato Quel maestro Di cui ti parlo A parlarmi del kung fu Quando ero piccolo E quindi sono andato A cercarmi cos'era il kung fu Ho scoperto che In teoria È da lì che sono andate Le arti marziali Allora ho voluto Trovare a tutti i costi Un posto E andavo una volta al mese A Vicenza Prendevo il treno E Imparavo Facevano un allenamento Di una giornata E mi allenavo da solo Poi quando tornavo E poi poco prima Invece Cioè L'esperienza di cui Stavano parlando Del carcere Sono riuscito ad andare in Cina Sono stato tre mesi In Cina Ah questo prima È successo Questo prima Poco prima Infatti io quando sono tornato Poi ho detto Cazzo adesso Cioè Voglio fare questo Posso insegnare Perché avevo il mio certificato Ho aperto dei corsi Cioè Un corso in una palestra Poi mi sono spostato in un'altra Che stava iniziando a Andare bene Però la vita è così Proprio in quel momento Hanno chiuso delle indagini vecchie Insomma C'ero anch'io Dentro Quindi sì Però ecco Ancora oggi Per me le arti marziali sono Casa In qualche modo Un rifugio A me è colpito Che nel periodo Poi del carcere Tu hai detto Che in realtà Non hai mai scritto niente Mentre lì dentro Quanto è durato tra l'altro Carcere quattro mesi E poi ho fatto Un anno e mezzo Gli arresti Con divieto di comunicazione Quindi peggio Con divieto di comunicazione Niente telefono Niente visite Cioè nessuno poteva Gli arresti Dai meno anni Quindi vedevo solo loro Ok E mia madre Perché aveva la residenza Lì al momento Però cioè Non è che ero Sì 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 Quindi I tuoi nonni Sono stati I tuoi Diciamo Angeli custodi Per quel periodo Sì la mia famiglia Comunque Parte tanto da loro Ecco Senza di loro Era un rapporto Che è nato Per quell'occasione lì O già prima Aveva un rapporto Con i tuoi nenni No già prima Già prima Sì sì Quindi in quel momento lì Sei andato Cioè ti hanno affidato Lì con loro E cosa Cosa ti dicevano loro? Ma in realtà Non so Non sono persone Che commentano tanto Però sono persone Che ci sono E in quel momento Tu scrivevi però Ovviamente non erano felici Beh quello Di sicuro Però i nonni A un certo punto I nonni Credo poi Chi ti vuole bene Ok Hai preso atto Di quello che sta succedendo Poi erano Credo lì con te No? Al tuo fianco Certo Non era facile Comunque non era Non era semplice Quanto sono durati Scusami I domiciliari? Allora Un anno E sette E invece in quel periodo Sei riuscito a scrivere? Sì Lì sì E quindi tutti Perché comunque Dopo passa il tempo Cioè pensavo anche al dopo Chiaro E ho fatto bene Pensare al dopo Perché Cioè ti dico Pezzi che sono In solo tutto Che hanno fatto i numeri Comunque gli ho scritti là In quel momento Sì Nel mentre Quando niente non riuscivi a scrivere Perché provavi Perché Era troppo Dura Quella che stavi vivendo Ma allora poi Ho fatto periodi Nella mia vita In cui non sono riuscito A scrivere neanche fuori Capito? Quindi in realtà Probabilmente Ha coinciso Con un momento Di scarsa ispirazione Però sì Non che aiutasse Sicuramente Ma anche perché poi Almeno I beat I beat Poi agli arresti Capito? Cioè potevo ascoltarli Con YouTube Mentre Mi avevano Regalato Un cd originale Di strumentali DJ Dilla Ed erano le uniche strumentali Che avevo Però erano tutte strane Un po' eclettiche Quindi c'era Che mi veniva Tanta voglia Di scriverci sopra Sono abbastanza semplice Nei gusti E Quindi sì Non ho scritto niente lì Però ho scritto tanto dopo E anche Sciala sempre L'ho scritto Agli arresti Che poi ha lo stesso nome Dell'indagine Giusto? Sì Quella è stata Una citazione Reale Di quello che stava succedendo E Ti è mai capitato Che le persone Che Con cui hai vissuto Quel periodo Vedessero poi Il successo Che hai fatto dopo E di Riaverci a che fare? Sì Per esempio Allora Principalmente L'indagine Era su padre Figlio Cioè È bello ritrovarsi Ancora Ok Perché comunque C'era del bene Non era Non so Anche il rispetto Dopo anni Che rimane È importante Perché non tutti Si sono comportati bene In quella In quella situazione Anzi La maggior parte E tu ti sei mai Cioè ti sei mai sentito Di rappresentare Qualcuno Poi Lungo La strada Ma in quel momento Sì Perché Comunque senti Una vicinanza Con chiunque Cioè pure che senti Almeno io Cioè dico Quando Magari ero C'era La tv accesa E sentivo Hanno arrestato Tizio Per Cioè senti Senti già Quella Quella sofferenza Perché comunque Poi vabbè Siamo entrando in un discorso Che non piace alle persone Perché quello che ho visto Poi Anche al mio pubblico Cioè poi non so se tutto No però Prima guardavo tanti messaggi All'inizio La gente non piace Si parli Davvero? Sì sì Non so perché Cioè la gente non piace Che si parli di queste cose? Sì che si parli di queste cose Apertamente riguardo alla sofferenza Relativa alla detenzione Insomma A cose che invece sono considerate normali Forse Ho visto che non piace Ma non piace perché secondo te Non è Cioè se uno Tra virgolette Si lamenta di soffrire Sì bravo Esatto E te lo meriti È giusto che tu soffra Un po' per quello Perché quindi è capitato poi Di leggere In lungo Il percorso Che qualcuno ti Dicesse di questa cosa Oggi che tutti commentano Tutti Dicono Cioè penso che Sotto gli occhi Di tutti Anche i tuoi No Si 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 Come la gente Si scaglia subito E E questa è una roba Che ti faceva un po' Soffrire Però è l'ignoranza Ma più che soffrire Cioè Mi ha fatto proprio perdere Le speranze in quel senso Cioè pensavo Che in realtà Ci fosse più Più consapevolezza Più empatia Anche Sì più empatia Rispetto a una situazione Però in qualche modo Questa esperienza Chiaramente molto forte Sei riuscito A girarla In tuo vantaggio Tu in quel periodo In cui scrivete Saresti mai immaginato Che poi sarebbe successo Quello che è successo Nella tua vita Immaginato Sì Aspettato No Però Non avevo molto da perdere Quindi nel senso Ci ho sperato Ci ho creduto Fino all'ultimo Quale è stato il momento In cui Ti sei reso conto Che la cosa Stava Che stava funzionando Che qualcosa Stava cambiando C'è un po' di colpo Perché Quando ho conosciuto Fra Crookers Per il fatto Che mi ero incontrato Con Rafi E Ugo Cioè vedere Che comunque Dico Sta gente Nel senso Gente di Milano Già nel settore Si è interessato Immediatamente A me Che non ero nessuno Ma tu cosa facevi In quel periodo Prendevi la musica La facevi E la mettevi online Sì Sì lo facevo Infatti anche 7 miliardi Sabbio d'ora Erano già stati Messi online Poi li abbiamo tolti E sono state le mie due Ok Quindi la versione Che c'è adesso Col video E tutto quanto È già un secondo Upload Diciamo Della canzone Sì Ok Quindi facevo questo Però il problema È che Cioè Non è che avevo Avevo già i pezzi giusti Avevo già Tutto giusto Ma purtroppo Non Soprattutto Stando in provincia Non avevo Un'utenza Ma anche un passaparola Come può essere Il network Quello di uno sconosciuto Però a Milano Ok A Milano è quasi scontato Che conosci Quello dentro La cosa Di striscio Magari O il tuo amico Cioè Da me non esiste Niente Ma neanche adesso Infatti io Ce l'ho fatta Con la musica Sono diventato famoso Sono diventato Cioè magari anche Portavoce Della provincia Eppure Cioè non si è mosso nulla Al di fuori di me Niente Infatti Il mio sogno La mia ambizione Per Non garantire Perché mi sembra Esagerato Però dare Una possibilità concreta Anche A quel luogo A quelle persone Per chi vuole fare qualcosa Di questo genere Beh tu in qualche modo Però Per molti sei Già di per sé Una speranza Non so come dire Cioè Una seconda possibilità Mettiamola così Cioè che in qualche modo Sei riuscito Da una situazione Che nella maggior parte Dei casi Poi Il carcere Poi è tutto un tema Molto più grande Cioè che Si dice Che poi addirittura Tu ci entri In un modo Ed esci Che sei peggio Di quando sei entrato Sì ma poi Ti dico la verità Al giorno d'oggi Se devo fare qualcosa Per il carcere Magari non è Continuare a parlarne Perché poi vabbè Adesso siamo entrati Nel discorso Ma abbiamo parlato Ma io non ho Tanto interesse A farlo Quanto lo avevo prima Perché Tanto le parole Sono Sono sprecate Mi piacerebbe fare Qualcosa di concreto Penso che lo farò Quando hai un bagaglio Così forte E ti devi approcciare A un album nuovo Come quello che hai fatto Qual è la prima cosa Che pensi di fare Cioè Come fai a Non dico cancellare Perché quella è una roba Che fa parte Già solo pensare Non parlo di quello L'ho dovuto parlare di altri Quindi mi rimaneva Soltanto di vedere Di cosa avrei parlato Io alla fine Ho parlato di tante cose Poi comunque Io sono contento Anche di aver usato Quelle canzoni Che sono uscite anni dopo E quindi vabbè Mi hanno messo Un po' in una posizione Scomoda Di dover So come dire Sostenere Qualcosa che mi pesava Già da tanto Che era passata E comunque Di portarla Agli occhi della gente Ma perché Quelle canzoni Sono frutto Di traumi Di malessere Di una storia Di cose successe E sono preziosa Hanno un valore Quindi non andavano sprecate È stato pesante Farlo uscire anni dopo E promuovere l'anni dopo Promuovere quel racconto Che magari mi apparteneva A metà Perché non lo stavo più Vivendo da un po' Soprattutto dopo il successo Ovviamente Ma ne valsa la pena Cioè era giusto Che quella sofferenza Non venisse sprecata E adesso Come Come dire Nella mia teoria Io non sono un cantante Non sono un rapper Eccetera Però Sembra sempre che Quando Più soffri Più scrivi qualcosa Di potente In qualche modo No? Storicamente Nell'arte in generale Succede un po' Un po' Questo Che tasti vai a toccare Adesso Dato che Vuoi provare A A cambiare Delle cose Anche di quello Che è la tua percezione Fuori Sai che non Non ti so rispondere Beh Ci sta Perché comunque La chiave di tutto Quello che mi motiva A fare musica E parlare Della mia esperienza Di me E Il discorso che Dici che si fa Sulla sofferenza Di chi scrive Di chi fa È vero No? Cioè poi la gente In realtà Secondo me fra intende Che non è che tipo Mentre soffri Tu scrivi la canzone Certo Però aver sofferto tanto Cioè come per me Come per altri Secondo me Ti toglie delle cose Ma te ne dà delle altre Quindi una sensibilità Un'empatia maggiore Per Che per essere capito Ti serve Saper capire E invece Dei momenti di gioia Li riesci a individuare Lungo il percorso Con precisione Cioè dei Dei momenti In cui ti dici Cazzo qua Io sono stato proprio felice Piccole cose Però cioè L'importante È la sensazione No? Sì no? Ce ne sono Sicuramente Beh immagino Non so Quando ho iniziato Ad avere A vedere Che questa cosa Stava Stava funzionando Ah ok Sì Sia la musica Riguardo alla tua vita In generale anche Cioè c'è stata una volta Non so Quando hai visto Che il disco Il singolo Stava in classifica O quando Beh c'è stato un momento In realtà ti dico Anche quando ho finito Di mixare il disco Settimana scorsa L'ho risentito E comunque cazzo Ti viene Ti viene il nodo in gola Cioè Eh sì È una bella No credo sia Una bellissima emozione Non l'ho mai Non l'ho mai vissuta Anche quando Insomma Mi ricordo Se avevo visto Che Forse uno dei primi A scriverti Privatamente È stato Marra Che aveva In qualche modo Già trovato in te Qualcosa Sì Era uscito Sabbia d'oro Mi aveva scritto Sì E tu dove ti aveva scritto Su Instagram Tra l'altro Me l'ha mandata Quest'estate Mi aveva mandato Uno screen Cioè una foto Di lui che guardava Sabbia d'oro E diceva Che figate Sì Dai E lui cosa ne aveva scritto La prima volta Ma delle belle parole Ne aveva scritto Cioè tu In quel momento Apri Instagram E vedi che Marra Ti ha scritto Il messaggio di Marra Cioè poi in un momento In cui nel senso Un mese prima Leggevo il messaggio Del mio vicino Capito Cioè non è che leggevo Esatto E una settimana dopo Invece avevo Un botto di follower Di occhi addosso E mi scrivevano Marra Mi taggava Salmo Cioè incontravo Tedua E come si fa a gestire Poi questa cosa Tu sei stato bravo Secondo te a gestirla Più che bravo Cioè forse sì Un po' di bravura Sicuramente ci vuole Come in tutto Ma sono anche stato Fortunato In un certo senso A affrontare questa cosa In un'età Già più avanzata Cioè non ero più Ragazzino Non avevo già passate tante Perdi la testa Certe cose le conoscevo bene Quindi in senso Non ho scoperto niente Era solo tutto meglio Di quello che avevo mai visto Fino a quel momento Però magari Boh avessi avuto Questa esplosione A vent'anni Visto che oggi è possibile Non era pensabile Oggi è possibile Penso che anche io Avrei fatto Più fatica A gestirla Sicuramente Non è semplice lo stesso È la cosa che soffro di più In realtà Non è successo Il fatto che potrei fare Qualsiasi cosa Perché Comunque Cazzo per me Non poter girare Con la sensazione Proprio la sensazione Di essere libero E di essere ignorato Mi manca tantissimo Davvero? Sì tantissimo La soffri questa cosa Un po' Della popolarità Ma l'ho sofferta Tanto all'inizio Adesso comunque Cioè penso che Le condizioni esterne Sono importanti Fino a un certo punto Poi L'equilibrio Bisogna trovarlo E Per cui la vedo più come Cioè qualsiasi cosa possa Pesarmi La vedo come una sfida ad oggi Grazie Grazie a io Non ho altri pensieri Come i soldi Non ho Almeno per il momento Perché Quindi Adesso Direi che non la soffro Come prima Il tuo rapporto Col denaro Com'è? Buono Sempre Non ho mai fatto Spese folli Sì Quando Insomma Iniziato finalmente Da tutti i lavori Che facevi prima E tutto quanto Inizia magari Ad arrivare Anche qualcosina Anche lì Sei stato bravo A gestirla Sì Anche troppo Cioè In realtà Mi sono fatto Forse delle privazioni Più che Dei regali Perché Non avendo mai Vissuto nell'abbondanza Non Cioè Ho sempre paura Che poi Sinisca tutto No Ci sta Di solito Chi magari Arriva da un certo Tipo di Percorso Di origine Poi invece Cerca di stare Un po' più Un po' più A te Però c'è un regalo Che ti sei fatto No Per carità Ma c'è nel senso Quello che dicevo In 7 miliardi Voglio una vita decente Quello assolutamente Subito Però Comunque Magari potrei Concedermi più cose E non lo faccio Perché ho una paura Di fondo Che sia quella Che è meglio Che sto attento Perché non si sa mai Cosa mi riserva Il futuro Sei molto saggio Da quel punto di vista Anche l'outfit In qualche modo Poi è diventato Un simbolo Per te Cioè tu sei stato Tra i primi Credo A portare Questo tipo Di outfit No Che adesso Le tute Il cabellino Le tute Il cabborsello Cioè la gente Che mi scrive Poi vabbè Adesso va di moda Sta parola Maranza Ma Cioè l'altro giorno Ho messo una foto In cui ero in palestra In casa mia E avevo tipo La termica Che era la classica Aderente L'abbigliamento tecnico Nero Ed ero in palestra Che si vedevano Proprio i dischi E la gente Mi scriveva Ma perché sei diventato Maranza Cioè a parte che Comunque Sono vestito così Perché mi sto allenando Ma poi E ho detto pure Alla mia tipa Mi fa A parte che te Rai Maranza Prima di Maranza E comunque è vero Le tutti i cappellini Le Air Max Cioè ecco Quell'immaginario Si sta Però si appunto Non so Era il mio modo di vestire Quello di tante altre persone Cioè pure Corlafio e Speranza Ci siamo trovati Pure su quello Forse venendo appunto Dalle province italiane E non da Dalla città Cioè Se tu vedi i video Anche Non so Adesso ho fatto un video No Esce Mentre stiamo parlando Vabbè Sta uscendo Non è ancora uscito Ok Ma Cioè Se tu guardi le persone Come sono vestite Cioè Non si capisce niente Non c'è Un Uno stile Riconoscibile Comunque Omogeneo Tutti uguali Da me Tutti a cazzo di cane Che è pure il bello Però non esiste Cioè Non è una roba studiata Non c'è consapevolezza Non so Dello stile La moda Le cose Tu ammirami Vedi i ragazzini Cioè Quelli su vestiti così Quelli su vestiti così È tutto definito Non è una cosa Non è una cosa studiata Però sicuramente la tuta Ce l'hanno tutti Il cappellino Oppure le Air Max Originali o tarocche Anche Era quello Sì Adesso Insomma Ti sei fatto un'idea Di chi è che ascolta Massimo Pericolo Non l'ho ancora capito Sì Non l'ho ancora capito Perché comunque Mi ha sempre scritto La gente più diversa E Tante volte Mi ha colpito Soprattutto all'inizio Vedere che Magari proprio gente Lontanissima Dai temi Semplicemente Anche della mia musica L'apprezzasse così tanto Ci sono ragazzini Ci sono adulti Quindi genitori Che mi scrivono Ci sono persone Che hanno vissuto Le stesse cose Che mi scrivono Ma non Non penso di avere Un pubblico Molto definito Anche perché Nella musica che faccio Vario abbastanza Sono abbastanza aperto Anche nel modo Di parlare Credo Non è che faccio Quello e basta Poi magari mi sbaglio Non lo so Questo è quello Percepito Vedo e penso io Quando vai in giro Cosa ti capita di incontrare O cosa ti dicono Ovviamente più ragazzi giovani Ma perché poi Sono quelli che ti fermano Sì Sono più ragazzi Che si Si buttano Anche nel chiedervi Però c'è tanta gente Insospettabile Che magari appunto Non ti chiede neanche la foto Però ti saluta Ti dice Ho letto il tuo libro Non so Capito già Va al di là Della musica Sì Con 7 miliardi C'è stata l'esplosione Ovviamente Non so Sembravano tutti uguali a me Tipo quelli che mi fermavano Però si è ampliata tantissimo Da subito La cosa Perché già con sabbia d'oro Non so È uscita Da una categoria Subito Poi Ripeto Magari mi sbaglio Vabbè Sto facendo un viaggio Credo che sia abbastanza Reale Avendo tu poi La percezione Anche se Adesso cosa fai Sei ritornato a usare Adesso che esce L'album Che esce tutto Insomma Adesso che ritorni Un po' nel tunnel Diciamo anche Del tuo lavoro Che già c'eri Però diciamo Quello un po' più pubblico Se ti rimetti a riutilizzare Anche un po' i social Come pensi di Sì sì Guarda Li voglio usare Per il potenziare Che hanno Ma non intendo Farne una malattia Perché poi diventa Ma infatti Su questo tema Mi interessa Perché tante volte Io stesso Ma anche parlando Con altri amici O colleghi Spesso si parla Di dipendenze Ma a volte Anche il telefono stesso Inteso come social Eccetera È una dipendenza reale Tu lì Quando dicevi prima Che hai smesso A un certo punto Di utilizzarlo È successo qualcosa In particolare O Ti sei Hai preso atto Di questa cosa E l'hai trattata Come una qualsiasi Altra dipendenza Non lo so Ma C'è più che altro Cioè Vedevo che Quella gratificazione Immediata Non so Di usare il telefono E essere intrattenuto Dalle cose Cioè Stava Stava occupando Cioè Il mio tempo La mia concentrazione E avendo degli obiettivi Che Hanno a che fare Con lo sport La salute Lo stile di vita sano E Anche con L'impegno La concentrazione Nel mio lavoro No Ho detto Cazzo Non va bene Perché sono inquinato Continuamente Da Da cose E poi Credo Comunque Che appunto La gratificazione immediata Data da cose facili E ricorrenti Nell'arco della giornata Sempre 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 Così Ci stia Rovinando E Io non Cioè Non riesco neanche Immaginarmi Un ragazzino Che cresce Così Fin da subito Per me La disciplina È tutto Nella vita È quello È quello che Io rincorro Da sempre E finalmente La sto La sto Veramente Applicando Ho sempre Cercato di farlo E non ci riuscivo Ma è sempre Stata Una fame Di quella cosa Non so Dirti perché C'è qualcuno A cui ti sei ispirato O a cui ti ispiri Anche nell'ultimo periodo Che dici Cavolo Quella cosa La Buddha Davvero Sei Sì Sono tornato Su certe cose Perché appunto Anche Le arti marziali Che praticavo Vengono Da un ambiente Buddista Da una cultura Buddista E Io mi sono Proprio Accorto Di nuovo In realtà Perché Cioè Anche quando Mi sono approcciato All'inizio Da ragazzino Capivo già Di cosa si stava parlando Però poi L'idea che mi sono fatto Io crescendo Cioè Del mondo Che un po' Era cinica Un po' Era misantropa Era anichilista Tutte queste cose qua Cioè In realtà Era solo Quello Ma in chiave negativa Perché avevo sofferto tanto E Andando oltre Mi ritrovo tantissimo Nel Nel pensiero Buddista Vedi Io Ho detto Che adesso Mi aspettavo Mi dicevano Un rapper americano No Buddha Non me l'aspettavo Qual è il tuo rapporto Con Con la religione Quindi Cioè No Nessuno Nessuno Cioè è più la figura In questo caso Di Buddha Ma perché Noi parliamo di religione Ma perché appunto La differenza di culture Anche nella comprensione Di certi concetti Fa una differenza enorme E quindi noi Parliamo di religione In realtà Non esiste Sta cosa Io Perché Compassione Mi interesso da tanti anni A queste cose Comprendo bene Quello di cui si parla E quindi ti dico Rimango comunque Al di fuori Da ogni discorso religioso Pur Ritrovandomi perfettamente Nel pensiero buddista Ma e fai meditazione Fai pratiche anche Sì Ogni mattina Faccio meditazione E' da due anni Cioè Che praticamente Mi segno Tutti i giorni Che io salto La meditazione Perché così almeno Continuamente Sono a prova Di quello che faccio Ed è una cosa importante Per me Proprio Questo Te lo invidio Perché è una di quelle cose Che vorrei tanto provare Ma è solo il pensiero Di riuscire a Fermarmi un attimo E dire Che dovrebbero farlo tutti Mi fermo un attimo Fisso Quello che sta succedendo Non penso a niente C'è la cosa paradossale Che è proprio Cioè Anche A vantaggio Del Cioè Non so Del ritmo Frenetico Che viviamo E delle ambizioni Che abbiamo Che uno vuole dare Il massimo Benissimo Quindi hai bisogno Anche di staccare E se tu riesci A staccare bene Capito Solo perché ti fermi Quella mezz'ora al giorno Non hai bisogno In realtà Di un sacco Di momenti In cui stacchi In modo Anche malsano E quindi Sei più produttivo Quindi se la tua ambizione Quella è È ancora più strano Che stai lontano Da certe cose Non parlo per te Ma parlo per Questa cosa Che ci riguarda Un po' tutti Lo capisco E tutte queste cose Fanno parte Del nuovo cambiamento Cioè Anche l'aver fatto Questa meditazione In questo periodo In generale Negli ultimi anni Si parla tanto Di salute mentale Adesso improvvisamente Fortunatamente Se ne parla Perché poi è una cosa Che anche nel tuo caso Insomma È un tema Che è stato affrontato Eccetera Lungo la strada Tu ti sei fatto aiutare Da qualcuno Sì Mi sono fatto aiutare Sicuramente Sono cambiate Un po' le cose Però non era neanche facile Avere accesso Con l'aiuto Il mio primo approccio Con La mia prima richiesta D'aiuto Era a te È stata Fermata sul nascere Nel senso Che io ho chiamato Il CPS Che vabbè Insomma Il CPS Cazzo Centro psicosociale Non lo so CPS CPS Della mia ASL Ho chiamato E ho detto Guarda io Questo 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 Ma brevemente Sì E la risposta è stata Non abbiamo Personale Disponibile No No Personale Adeguato E in realtà Poi io sono andato lì Di persona Poco tempo dopo E mi hanno E mi hanno fatto passare Mi hanno dato Quindi c'è stato Diciamo Un filtro Già Sì Quindi capisco Che non sia facile No Tu già l'avevi fatto Il lavoro più grande Che cosa di riuscire A arrivare a chiedere Magari un aiuto A qualcuno No E poi invece Sì Probabilmente Il fatto che già ero da solo Quella cosa che ti ho detto Comunque ho preferito Ho scelto la solitudine Piuttosto che Una compagnia Che in quel momento Vabbè E E quindi sì Stavo male Ho chiesto aiuto Cioè E poi però Perché non avevo Neanche intorno Sai La paura Del giudizio Perché magari Cioè Che ne so Mi mettono i panni Di magari Ragazzini che sono in casa Con la famiglia Magari hanno Non so Paranoia Io ero da solo Quindi non avevo Nessun tipo di paranoia Se non tutte le altre Esistevano E mi ha servito Poi vabbè Oggi ho anche Insomma So Le differenze Che ci sono Nelle varie terapie E ne ho scelte Delle altre Col tempo Perché Però C'è l'importante Iniziale Certo Come in tutte le cose Prima citavi La tua fidanzata Sei fidanzato Da quanto tempo Due anni e mezzo Tutti in questi Due anni e mezzo È successo di tutto Sì Fai due anni Vabbè Comunque Ci siamo conosciuti Da due anni e mezzo Da due anni e mezzo Conviviamo Siamo Siamo proprio E questa cosa Anche ha contribuito Un po' Alla tua Al tuo cambiamento Sicuramente Sì E com'è secondo te Stare con massimo pericolo No no C'è un bel asento Di risponderti io Però Se stiamo bene Merito di entrambi No Quello sicuramente Il lavoro si fa sempre in due Esatto In quei Come se stessimo male Sarebbe colpa di entrambi Lei come ti chiama Vane o No Vabbè Perché non so Probabilmente Ci stroppiamo i nomi Ogni volta Che ci chiamiamo In modo diverso Però Se non mi chiama massimo Se passera la domanda Però qualcuno Ti chiamerà male Cioè Da quando si diventa Trovoso Tutti pensavano Che chiamassi massimo Tanti pensano Che mi chiamo così Tutt'ora Tutto Che coincidenza Cazzo Si chiama massimo Di nome Pericolo di cognome Pazzesco Qualcuno È stata una roba Che hai sentito Come era Sì Ma Cioè che non era Detta in quel modo Cioè Era proprio Dentro una frase Decontestualizzata Parlavano tipo Non so Di una tromba d'aria Sì 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 E io Ho presa Boh mi si è accesa L'ho sentita Ci sta Mi piace Mi piace E ha funzionato Come vi siete conosciuti Con la tua fidanzata Ai tempi guardavo Un po' ancora Instagram Ah ok Però dicevo che ho aperto Il messaggio giusto Tra mille Che culo Che culo Questo è Cosa ti sta dando Lei adesso Che magari Non avevi prima Ma allora C'è una persona Serena A fianco a me Che Cioè veramente Non ha Non sarà La persona più equilibrata Che io abbia mai conosciuto E Avere di fianco Una persona equilibrata È una cosa Che non avevo mai Provato in vita mia E Aiuta tantissimo Questo ti porta Un po' di equilibrio Un po' di equilibrio Anche a te C'è qualcosa Nell'album nuovo Che parte da lì Che parte da lei Ok Insomma Parla di lei Sì sì C'è proprio un pezzo Ah ok Il mio primo pezzo D'amore in assoluto Cioè in cui parlo Proprio Cioè Di una persona In modo Positivo Nel senso che stiamo insieme Stiamo bene È la prima volta Che lo faccio Nel disco Cioè Si chiama insieme E quel pezzo Parla Cioè di lei E per lei E questa è la prima volta Che succede Nella discografia Di Massimo Perico Perché Tu raccontando la realtà Se non la stavi vivendo Quella roba Non potevi Non potevi metterla Tant'è vero Che ci sono pezzi Per questo disco In realtà ho scritto Tanti pezzi Cioè non sono altri Che sono più Capito Cioè non Non dico vecchio stile Non è vecchia esperienza Se parlano di altre cose Gli altre persone Sono Pezzi d'amore Ma con quel Quel sentimento Negativo La dimensione del live Tu come la vivi? Cioè anche da tanto tempo Che non faccio Che non faccio live Adesso devo fare il forum E sono contento Cioè Sono preso bene Non sono Forum che è sold out Sono angosciato È sold out Cioè è andato sold out Prima che uscisse il disco So che ho apprezzato Anche quel lato Della mia carriera Cioè Il live È una parte importante Per un artista Che canta È la prova del nove poi Me la vivo bene Ma è così Visto che prima parlavamo Del cambiamento Di come è iniziato Io quel momento basso Della mia vita Ce l'ho avuto anche Ha coinciso con Il mio tour Di solo tutto Quando ho fatto Alcatraz È stata la prima volta Che me li vivevo malissimo I live Non so perché Mi sentivo Cioè Tipo staccato Proprio Dalla cosa Sì Non credevo più In quello che stavo facendo Cioè Li vivevi da fuori Sì Anche perché Cioè Poi sai Sul palco Magari una certa carica Cerchi di motivare le persone Però ti giuro Che in quel momento Io è stato Un picco di bastezza Quindi Cioè Non ci credevo Per un cazzo Cioè Io sono qua A parlare a queste persone Io non sento nulla Ma non ci credevi più Perché In quel momento Quello che tu cantavi Non ti rappresentava più Anche un po' Anche un po' Per quello Ma forse Vabbè Soffrivo tanto d'ansia Quindi magari Probabilmente era anche il fatto Però queste persone Vogliono quello Cioè In realtà Probabilmente Capito Tra dieci anni Canterò ancora Sette miliardi È ovvio che Non c'entra più nulla Con la mia vita Già adesso Figurati tra dieci anni E Cioè Poi c'entra e non c'entra Nel senso Comunque rappresento ancora Cioè Quella Quella cerchia di persone Di cose Di dinamiche Però lì è quello Cioè Quel momento Di cui tu parlavi prima Che hai toccato Insomma Uno dei punti più bassi Che hai toccato È stato comunque Nel momento in mezzo Al successo Sì Questo può sembrare Ma se cosa è stato È stato Un trauma per tutti Il covid A quei due anni E Io sono arrivato Esausto A un'età In cui però Ho avuto successo Quindi Mi stavo Motivando tanto Dicevo Cazzo adesso Voglio fare bene Voglio fare Stavo per partire Per il tour europeo E hanno chiuso tutto È arrivato il covid Quindi sono stati due anni Difficilissimi Per tutti E A modo mio Ho vissuto anche io Le mie difficoltà Ma mentalmente Perché grazie a Dio Non avevo problemi economici Mi ero già trasferito Quindi stavo in una In una casa Comoda Spaziosa Con la palestra Ma Mi ha proprio spezzato Una cosa Che era già difficile Perché è appunto Successo Lo devi gestire Arriva E poi si blocca Tutto di colpo Arriva successo Di colpo E poi arriva Un periodo Strano Come si avessero Strappato le ali Mentre stavi Provando a volare Sì Tipo È anche indescrivibile Questa cosa Perché poi Non voglio neanche mancare Di rispetto A persone che invece Erano ancora In difficoltà economica Pesante E hanno vissuto Questa cosa Ho visto tante persone Perdere il lavoro Insomma Avere altre preoccupazioni Che sicuramente Non voglio Mettere a confronto Certo Però ciò non toglie Che è stata Comunque forte Mega pesante Questa cosa Sì sì Ed è lì È stato un po' Comunque una cosa Che ti ha abbastanza Buttato giù No Diciamo che poi Ha proprio bloccato Tutte quelle Quelle emozioni Che stavano maturando E quindi Mi sono Staccato Ho iniziato proprio A osservare le cose E basta E chi sono I tuoi amici In questo settore Altri artisti Qual è il tuo rapporto Con gli altri artisti Primo che mi viene in mente Perché è venuto anche qua Emis È stato uno dei primi Con cui mi sono visto Con cui ho iniziato Il rapporto E ci vogliamo bene Ovviamente anche Raffi e Ugo Raffi e Ugo Speranza Abbiamo iniziato insieme Questa cosa Sì voi eravate Cioè proprio Quell'esplosione È stata in contemporanea E Secondo me Infatti Cioè Io sono contento Di averli riportati Nel disco Perché per me È una cosa simbolica Che spero che Rinfreschi un po' La memoria alla gente Però Cazzo anche lì Il covid Non ci ha aiutati No A portare avanti Quella cosa Che stavamo portando Avanti insieme E Infatti Cioè Voglio proprio che Cioè le cose Ricomincino Che vadano per il meglio Per me Per loro Per tutta questa cosa Che avevamo iniziato Chiaramente quando hai iniziato Avevi dei miti Poi con questi miti C'hai anche collaborato C'è qualcuno Che ti ha fatto Ancora più piacere Qualcuno magari Che ti ha deluso un po' Una volta che ci sei entrato In contatto realmente Allora Di verità Deluso no Perché io non è che Mi sia mai aspettato nulla Non avevo questa cosa Da fan Che si aspettava Chissà che cosa Cioè Era abbastanza grande Da capire Che siamo tutti quanti persone E E invece Ci ha colpito E dicevi In modo positivo Sai cosa Guè Cioè Quando lo conosci Scopri una persona Non so Non mi viene il termine Però c'è tantissimo altro Capito Dietro quello che magari Uno vede Basta Dalla carriera Dalla musica Sono d'accordo Allora Io ti ringrazio intanto Perché questa che carata Per me è super Perché ripeto So che Non è stato magari Anche facile Ti ho chiesto delle cose Che magari Di cui tu Ormai in questa fase Non hai più voglia Di parlare Però Per un racconto Non me l'aspettavo Che tornasse No Era un tema Ma proprio Mio umano Volevi già parlare Sì era una cosa Mio umana Di quelle cose Che ti dicevo Mi sarebbe piaciuto Chiederti Anche perché poi Insomma Chi ascolta il basement In particolare Chi ci ascolta Insomma Sono sempre Delle storie di ispirazione Io credo che la tua Per tanti motivi Lo sia Perché c'è C'è veramente tutto In questa storia Che è chiaramente Ancora tutta Da scrivere Quindi secondo me Quella parte Era comunque Importante poi Da raccontare E soprattutto Tu hai vissuto Tutta una serie di cose Adesso ne devi vivere altre Immagino anche Non so Tu adesso che Vedi e osservi Quello che sta succedendo Nella musica Oggi Ragazzi più piccoli Ormai non tu sei passato Diciamo a quelli un pochino Quanti anni hai adesso? 31 Devo fare un 31 Ok Sei passato da quelli Un pochino più grandi Che magari giocano Con delle cose Che tu hai vissuto davvero Tu che idea ti fai Di questa cosa? Lo osservi Ne sei fuori Non ti interessa? Ma sicuramente Cioè ne sono fuori Per una questione di età Per una questione di Anche del fatto Che io vivo in provincia Non mi trovo qui Magari A frequentare Continuamente I colleghi Però Io penso solamente Una cosa Che alla fine Se uno Può allontanarsi Dal male Deve investire Tutte le sue forze Per farlo Cioè semplicemente Questo Però entrano in gioco L'orgoglio La reputazione Cioè insomma anche Il rispetto Delle persone Che intorno Che a vent'anni Sono Cioè sembrano tutto No? Il consiglio Che posso dare Cioè che È difficile rendersi conto Però Quando arrivi a trent'anni Te ne rendi conto Che non è vero Che sono tutto Questo Beh questo è un consiglio Un consiglio Che idea ti sei fatta Se hai voglia Di dirmelo O meno Di tutta la questione Cioè Non so Adesso È una tua storia Al contrario Il fatto che in questo momento Ci sia un rapper Che è già Molto noto Ed è già molto famoso In carcere Ed è Shiva In una situazione Completamente diversa In una cosa Che si è ribaltata Perché nel tuo caso Invece tu l'hai vissuto In un momento In cui ancora Non facevi Non facevi questo Cioè o meglio Lo facevi Ma non ai livelli Con cui lo stai facendo adesso Come Come la vedi tu adesso Che sei un po' più grande Questa storia Cioè come faccio A commentare comunque Una questione legale Di un'altra persona Che Ci ho parlato Cioè di persona Ma non conosco La sua vita Non conosco neanche La vicenda Capito Non mi sembra neanche giusto E bello Commentare la cosa In un'intervista Che poi vedono tutti Gli auguro il meglio Comunque quello che Sta succedendo Non è Non è bello E sicuramente I motivi Per cui sono successo Non sono semplici E Anche conoscendoli Sicuramente Non puoi dire È andata così È andata così Perché poi i punti di vista Sono importanti Quindi no comment Ma Speriamo in bene Insomma Quello sempre Sei molto saggio Sei diventato In questa tua Vabbè Credo che lo fossi anche prima Anche se non ci eravamo conosciuti Però da tante cose Anche come ti sei poi Strutturato in questo In questo periodo E Ci sono persone Che sono al tuo fianco Dall'inizio In questo In questo percorso Ma Gli amici sono stati i primi A credere A spronarmi un po' Per quello che potevano Comunque a dirmi Cazzo sei bravo Come ti ho detto prima Forse quel commento Di quel mio amico È stato quello che mi ha permesso Di arrivare dove sono oggi E sembra una minchiata Invece Magari è stato tutto In quel momento Anche le persone Con cui lavoro oggi Per esempio Mohamed Che è il suo primo Che è entrato Siamo fratelli da sempre Fin da piccoli E Abbiamo legato Quando eravamo piccoli Proprio per il fatto Che ci allenavamo Tutte due Ci allenavamo insieme Fuori dalle palestre Cioè proprio Sotto al portico Di casa sua Di casa mia Penso che la propria storia Quindi anche le persone Che ti hanno accompagnato Negli anni Te le devi portare dietro Se vuoi Anche se vuoi stare bene Non puoi spezzare una cosa Inventarne un'altra È importante Tutto quello che ci riguarda Nel mio caso Le persone sono fondamentali Invece cambiando E chiudendo E cambiando completamente Argomento Se io volessi appassionarmi Alle arti marziali Cosa dovrei vedere? C'è qualcosa che dici? A parte Dragon Ball C'è un film incredibile Che è? Fearless Ok Che è la storia Vera Ma romanzata ovviamente Di Wo Yanja Si chiama Era Quello che Il fondatore Dell'associazione Più grossa Al mondo Di Wooshu Che sono L'arti marziali cinesi E che ai tempi Penso non so Che era prima Secondo guerra Forse prima Guerra mondiale Forse ancora prima Non voglio dire Delle cazzate Però aveva Organizzato degli incontri Con le altre nazioni Delle cose incredibili Vabbè Il film è la sua storia Con Jet Li Guardati quello Quello già mi fa Mi dovrebbe fare Ma tu collezioni cose Qualcosa Hai robe A cui sei A cui tieni No Sono un po' Estraneo Proprio quella cosa Di collezionare Non è una cosa Questa è un'altra cosa Che Marra mi ha detto Quando è venuto qui Che anche lui resta fuori Dal Anzi Fin da piccolo Sono sempre stato Per Vedere troppe cose In giro Mi dava quasi fastidio Ok Guardate che questa È una cosa ossessiva Non è per far Sono una cosa Però ho capito Quindi non ti sei Non ne hai collezionato Niente Eccetera Però poi Il tuo vinile Qui lo aspetto Al basement Assolutamente Ci sono tre versioni Più il cd Se riesco ti porto Più il cd Sicuramente la più bella Però magari ti porto Anche due robe Beh è bello Ti si è messo Tre versioni Con tre cover Con tre cover diverse Esatto Una marmorizzata L'altra arancione Il cd invece bianco Zebrato Ma il forum hai già deciso Con cosa apri Qual è la prima Ma non vorrei dirlo No 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 Non lo dire Non lo dire Dimmi solo se Cioè nella tua testa Tu ci sei già fatto Il fin del forum Cioè tu hai capito Che hai riempito il forum Da Sago di Già Soldato Prima che uscisse l'album Prima di Cioè questa è una roba Se non fossi poi già stato Al forum Concerto di Marra Quello di Emis Sì a vedere Ma meno male che ci sono stato Perché sennò Penso lo shock Sarebbe stato ancora più Ancora più forte Non sarei riuscito Cioè penso che non riuscirei Se arrivassi lì Senza sapere nulla Visto quello che so E quello che ti trovi davanti Ma quello sarà un momento In cui tu ti fermi e dici Guarda che cazzo sta succedendo Cioè guarda da dove sono partito Perché per adesso in realtà Non c'è mai successo Lo vedo come un traguardo importante Però non lo vedo Ma a parte il forum Cioè nella tua vita ancora ad oggi Non è successo un momento Che tu ti sei fermato E hai detto Cazzo guarda da dove sono partito E guarda cosa sta succedendo adesso Sì ogni tanto Però non è legato Degli eventi È proprio Cioè in certi momenti Dico cazzo Comunque io Non pensavo Cioè nella migliore delle ipotesi Già quello che ho fatto adesso È superare le aspettative che avevo E quindi adesso Non c'è più limite Può succedere Esattamente Io ti ringrazio davvero Per questa chiacchierata Davvero tanto Mi guarderò il film Ti faccio sapere E poi ti aspetto Alla prossima Massimo Pericolo È passato dal basement E poi ci faccio sapere Alla prossima Io ti ringrazio davvero